Sperando di riavere a disposizione Emilio Volpicelli, il Pineto si appresta alla prima gara casalinga della nuova stagione che si giocherà però allo stadio adriatico Cornacchia di Pescale. Il match molto complesso contro una Virtus Entella che malgrado il pareggio di sabato sera contro l'Ancona a Chiavari rimane pur sempre una delle grandi favorite alla vittoria finale del campionato. La trasferta all'esordio di Gubbio ha lasciato a Daniele Amaolo buone indicazioni malgrado le assenze del Barbetti. Superato il primo crash test contro il rosso-blu di Piero Braglia, adesso i Liguri che sono avversario se possibile ancora più ostico. Il tecnico del Pineto però con ogni probabilità potrebbe ritrovare davanti Volpicelli, mattatore del precampionato e uomo in grado di cambiare la fisionomia della prima linea bianca-azzurra in coppia con Gambale. Poi, aspetto da non sottovalutare, c'è sempre la possibilità che l'ex Viterbese possa essere un fattore sui calci piazzati cosa che al Barbetti avrebbe fatto molto comodo. In dubbio De Santis, uscito venerdì sera dopo 11 minuti a causa di un problema fisico, è evidente che con Ingrosso, che non è ancora pronto, e con l'ex Ancona, che potrebbe saltare la partita, il trio dietro dovrebbe essere obbligato con Di Filippo, Marafini ed Evangelisti. In mezzo, Lombardi riprenderà in mano le chiavi del gioco, mentre come interni occhio a Pellegrino, in gol in Umbria e che lancia la sua candidatura per una maglia da titolare in modo prepotente. Il giocatore Scuola Roma ci ha messo pochi giri di lancette per pareggiare la contesa e insieme a Germinario e Schirone imballottaggio per le due maglie ai lati di Lombardi. Sugli esterni la posizione di Della Quercia potrebbe variare a seconda dell'interprete che Amaolo sceglierà. Con Borsoi dal primo minuto, come all'esordio, il capitano del Pineto aggira a destra. Con Baggi si sposterebbe sulla corsia Mancina. In casa Entella il pari della prima non ha scalfito la fiducia. Squara, si diceva, di grande spessore, con Manzi e Parodi. Dietro, nella retroguardia 3, spazio per Bonini davanti a De Lucia. Esterni con Tomaselli e l'ex pescarese Zappella, al secondo anno in Liguria. Mentre Peterman, Exteramo e Tascone, in orbita Mercato Pescara, saranno la diga centrale. Occhio soprattutto a Mosti, che gioca tra le linee con Di Santo e Zamparo, coppia d'attacco. Ma sono le alternative di Gennaro Volpi a fare la differenza. In panchina, infatti, il tecnico agente come Contec, Gorbari, l'abruzzese Fagioli, sia Tunis, un altro ex pescara come Clemenza e il gioiellino Meazzi in rete sabato sera. L'impegno dunque è di quelli complessi davvero, ma l'impatto del Pineto con la nuova realtà è stato buono. Amaolo spera che l'onda lunga l'accompagni anche venerdì sera contro una big come la Virtus Entella.